benvenuti su videogames planet nel video di oggi proveremo far cry 2 un gioco un po' un po' datato diciamo e disponibile da oggi gratuitamente grazie al xbox live gold quindi scaricabile gratuitamente per tutto il mese di gennaio e andiamo a vedere un poco com'è la la trama del gioco e com'è la giocabilità abbiamo modalità storia nuova partita livello di difficoltà normale come personaggio allora abbiamo marty alencar warren clyde josep idromeno età 48 non ci credo manco morto cioè questo come minimo ci avrà 60 anni si finge un 48enne paul ferenc 34 sing 45 cioè questo già 45 anni e questo vuole far credere che ce n'ha solo 48 ma non ci credo vabbè torniamo indietro scegliamo o marty alencar o warren clyde mi prendo warren clyde ok giochi salvati iniziamo il gioco 5 minuti in questo paese ed è chiaro che le cose finiranno molto male l'ufll e l'apr che non so cosa siano devo dire questo è far cry 2 non ho mai giocato a questa serie quindi non so la storia del gioco quale sia e non avendo giocato né al primo né poi ai successivi non ho la minima idea di che cosa sia questo gioco ok andiamo scusi per il tarro così vai in un hotel a pala ok quindi devo andare in un hotel a pala c'è un solo hotel a pala perfetto quindi c'è molta scelta allora la telecamera si muove molto velocemente quindi è un po difficile guardarsi intorno ok stiamo praticamente in una foresta sperduta in cui non c'è assolutamente nulla ok c'è un bivio penso gli abbia detto qualcosa di poco carino non ho idea di che cosa abbia detto ma non credo che fossero complimenti ok qui c'è un po di gente secondo me non gli ha detto che l'aereo è andato ma non mi credono secondo me non gli ha detto che l'aereo è andato perché pure questo sembra che ce l'aveva mandato quindi secondo me gli ha detto qualcosa di brutto per quello andiamo a vedere che mi sta indicando una barca c'è una barca c'è un fiume quindi ok qua chi c'è un altro incrocio state attento che te gli incroci prendi le macchine ok tutto a posto ci dobbiamo fermare qui c'è una gallina c'è noca c'è noca ha messo sotto l'oca cioè non vorrei dire ma ha messo sotto l'oca vediamo non mi fa guardare indietro perché non c'è ah si è ancora vivo ok di poco ci è andato vicino eh andiamo avanti qua ha incendiato il fuoco mangia tutto ma come parla cioè parla davvero strano e la verità è che il paese ha bisogno di voi contro il flagello della fiere ok che è successo ora c'è un posto di blocco posto di blocco non sembrano molto amichevoli questo è il posto di blocco ciao ciao guarda stare qui a parlare con voi ma purtroppo c'è un impegno in hotel andiamo dai tanto vi ritrovo dopo sicuro e vi sparo a tutti andiamo senza affesa ma questi qui ci rubano tutto ci rubano tutto e a noi non rimane più niente un po' razzista l'autista andiamo sta facendo i chilometri con con questa macchina ecco un altro incrocio per poco prendeva la macchina vabbè l'importante è che stanno tra di loro palà è di qua quindi dobbiamo andare qua un altro incendio si a chi è che non è capitato di vedere ragazzi che si sfogano incendiando tutto capita a tutti io voglio nessun problema andiamo che è successo a questo ecco che è successo era così bella sta battuta che si sta sentendo male lui siamo arrivati da qualche parte chi è? c'è uno stop come se ci fossero chissà quante macchine qua ok signore eccoci sani e salvi sani e salvi tu io sto morendo prima di iniziare a giocare non saperebbe sarà stanca ecco è morto prima di iniziare ora partono i titoli di coda è finito tutto eccolo no è vivo c'è uno lì sta guardando la mia valigetta mi sta rubando le cose dalla valigetta non mi posso alzare no sta venendo lui ciao gli ordini sono di terminarlo non è andata come avevano previsto io respiro ancora e tu hai la malaria ah fantastico cioè appena arrivato si è beccato subito la malaria sei fottuto hai avuto la tua chance ma è passata e siccome quelli come te lavorano solo per i soldi non sei più un mio problema ora devi trovarti qualcos'altro da fare i tuoi vecchi clienti non capiscono che non possono uccidermi mi hai capito bene nessuno può uccidermi nessuno sono io che decido chi vive e chi muore io sì ho capito scusa tanto tempo fa ho letto un libro ci penso ancora ogni giorno mi aiuta a capire la vita da queste parti parlava di uomini e delle loro motivazioni gli esseri di diretti avviscono mai possibile la forza perché mi devi raccontare le cose sto morendo di malaria e te mi devi raccontare la tua vita addio che è successo? ah ok ho tutta la malaria mi riesco ad alzare c'ho il diario non solo c'ho la malaria mi bombardano pure bene ok ho preso la pistola ho preso il coltellino qua posso uscire? no quindi verso dritto qui A per saltare ok B per abbassarti bene LT per mirare RT per sparare ok vabbè classico e X per ricaricare ok passiamoci c'è un fucile prendiamolo qui c'è qualcosa? mi sembra di no se non mi sbrigo muoio più che altro di malaria prima che che riesco a uccidere qualcuno ok scendiamo qui non vedo nessuno c'è qualcuno che sta sparando ma eccolo questo è morto stanno a continuare a sparare quello morto per terra l'ho ucciso io ok grazie Mi fanno un botto di questi Sto praticamente per morire Niente mi hanno ucciso Erano davvero tantissimi Ti serve aiuto o no? Ok riporto da dove mi hanno ucciso Dalla camera No Sei nella merda amico Con l'affare è un casino Ah dovevo morire praticamente Ok Quando ti rimane solo una parte della barra della salute Sei ferito gravemente Curati alla svelta o morirai Ok Puoi premere lb per stabilizzare la tua salute Premi lb Ah ma hanno fatto un buco in un braccio Ok Adesso Sparavano io Sparavano io Sparato pure io Vieni qui a equipaggiarti Ci sono munizioni e medicine che ti aspettano Ah ok Trova la valigetta blu sullo scaffale Sarà questa Salva Ok Ok ho salvato Ciao carbonello Levati Prendiamo qui medicine Preso subito Quando il tuo livello di salute è basso puoi premere le b per usare una fiala Ok Usiamo una fiala Ah bene Vedo della roba utile qua Oltre al macete puoi portare con te altre tre armi Bene bene Zitto che devo via le armi Ok Bene Bene Che ne sai che scuola ho fatto Cioè Mi guardi ho fatto la scuola professionale Perché Vabbè Eh che sembra uno che sta che Per crepare Forse c'ha ragione C'ho la malaria Manco sono arrivato Mi sono beccato la malaria Ho preso tutte le armi Sì Ciao guardia Che vuoi Allora penso che sia Per visualizzare il tuo obiettivo Premi start Apri il cofano e ripara la macchina Ok Andiamo Ok Apriamo il cofano Cioè sta fumando che c'è da riparare Secondo me è andata Vediamo Vediamo Ok Usiamo la mappa Ok Premi X per cambiare la scala della mappa Ok Ah ci sono Vabbè Diverse città Pala Slaughterhouse Cockfight Mike Barr Lamber Ok queste poi penso che si sbloccheranno Poi durante il gioco Chiudiamo la mappa Mentre ti muovi in avanti Puoi premere LS Per fare uno scatto Proviamo Vabbè l'avevo già fatto prima Comunque ok Quando il telefono squilla Premi per rispondere Rispondiamo Chi è Ok Devo prendere Questo bolide Premi senza rilasciare RT per accelerare LT per rallentare Inserire l'elettromarcia B per usare il freno a mano Y per uscire E A per passare da guidatore A mitraglie Ok Allora penso che devo raggiungere il punto Con la freccia rossa Quindi andiamo Ah frena abbastanza bene Ok Giriamo qui Praticamente basta toccare il freno Che la macchina inchioda Ok Ci sono quasi Andiamo 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 Allora la guida Ovviamente È facilissima Sarà che Comunque non è un gioco di guida Quindi non 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 gli danno molta importanza C'è un tipo Ciao Non mi fa nemmeno arrivare Curiamoci C'è un buco nella mano Chi è che mi sta chiamando Aspetta che mi stavano ammazzando Chi è Ho saputo che hai ripulito l'avamposto Niente male Ok Ma che c'ha le telecamere Cioè come fai a essere con ripulito l'avamposto Come facevi a essere con ripulito l'avamposto Che è appena successo Che ci stanno le telecamere qua Vabbè Apriamo Bella Puoi portare delle migliorie ai rifugi Lavorando con gli amici Qui incontrerai gli amici Parlaci Potrebbero aiutarti se vieni feriti in battaglia Non è ancora nessun amico Grazie Tutti quelli che ho incontrato Le ho uccisi Quindi Non penso che sia un buon modo per farsi amici Uccidere tutti quelli che incontri Però Ok Hai trovato una granata Questa che è? Possiedi sia granate che molotov Puoi passare da una all'altra premendo RS Così Ok Allora Qui non c'è nient'altro Dormiamo Quando interagisci con il letto Puoi usare l'orologio per impostare il trascorrere del tempo Va bene Marca mancio Impostiamo Non me lo fa impostare Cioè Vorrei mettere 5 Com'è possibile? Gira un po' come gli pare Gira malissimo Vabbè Lasciamo qui perché non Non mi permette di impostare le 5 Quindi Praticamente O dormo 24 ore No 12 ore No 12 ore forse Ok Notte Eh sì Mi ha fatto dormire fino alla notte Salva Ok Sovrascrivi La partita è stata salvata Ok Usciamo Cioè Non mi dì che sa che mi sono svegliato No Questo mi controlla Questo c'ha una telecamera Perché non è possibile I risorsi hanno lì dentro Sulla tua mappa ho assegnato il punto di osservazione migliore Raggiungilo subito Cioè Io la mappa cartacea ce l'ho dietro Come l'hai fatta a assegnare il punto? Mentre dormivo Questo è entrato Mi ha assegnato le cose sulla mappa Cioè Ma chi è questo? Va bene Comunque Fermiamo qui E Allora Devo dire che questo gioco Mi sembra molto divertente Peccato non Non averlo giocato prima Quindi non Non lo conoscevo Cioè Lo conoscevo di fama Ma non lo conoscevo Nel senso che non c'avevo mai giocato Devo dire Mi sta prendendo Quindi è un gioco Che penso sia molto interessante Il fatto che sia gratuito per questo mese Io vi consiglio di non farvelo scappare Se siete amanti di questo genere di giochi Vi piacerà sicuramente Se non lo siete E comunque vi piacciono un po' tutti i giochi Quelli adrenalinici in cui comunque si spara Ve lo consiglio Sembra davvero un gran bel gioco Anche perché Sembra il classico gioco che ha Oltre alle missioni principali Anche le missioni secondarie Ad esempio qui abbiamo gli amici Nessun amico disponibile Ok C'è il diario Nel quale segna Ah Malattia Malattia a livello 5 Tre mori violenti Sodorazione abbondante Febbre Mi sembra di morire Cioè io sto morendo C'ho reputazione azzara Malattia 5 Sto praticamente morendo Comunque No è interessante Questo gioco davvero Mi sento di consigliarlo E' un gioco come ho detto abbastanza vecchio Mi dispiace non averlo conosciuto prima Però Lo giocherò sicuramente E lo consiglio anche a tutti voi Fatemi sapere cosa ne pensate Grazie per aver seguito questo video E ci vediamo al prossimo Grazie per aver guardato il video